Allora Simone Palermo, oggi finalmente sei ritornato in campo dopo questo piccolo infortunio, come stai? Sicuramente meglio, è passata la paura dell'infortunio, anche calciando la prima volta quando sono entrato in campo ho capito che il Musco rispondeva bene e ho cercato di dare il mio apporto alla partita di oggi. Il Foggia oggi ha avuto un atteggiamento vincente rispetto a come era stato a Gela e il mister si era lamentato un po' di questo fatto, oggi invece è andato tutto bene? Noi scendiamo in campo sempre con la mentalità di cercare di mettercela tutta, anche perché secondo noi siamo una squadra che comunque anche se va in vantaggio non deve mai fermarsi, perché la mentalità che dobbiamo inculcarci l'un con l'altro è quella di fare il più gol possibile, perché non siamo bravissimi a difendere. Però ora piano piano questa è la mentalità che sta entrando nella testa di tutti e quindi secondo noi potremmo solo andare meglio. Poi a Gela ci sono stati degli infortuni, qualche errore di troppo che non potevamo concederci e quindi è andata diversamente da come ci aspettavamo. È arrivata la prima vittoria in Coppa, adesso si aspetta quella in campionato. Per domenica? Per domenica ce la metteremo tutta e cerchiamo di dare il massimo. Altro non so dirti per ora. Ciao, grazie.